Qual è il valore più grande della Valmarecchia? Lasciati il blu del mare alle spalle, immergiti tra boschi e verdi colline. Qui la natura ti abbraccia e... Che c'è? I castelli. I castelli cosa? Parliamo dei castelli! San Leo, Verucchio, Montebello, la gente si nutre di storia, facciamola sognare! Io ja l'avevo detto. Mi scusi maestro, ma questo non doveva essere uno spot sul territorio e la natura in Valmarecchia? Poi anche volendo, ma come ce li metto sti castelli? Trovo il sistema! Un sistema! Ma un sistema cosa? Bravo! Pena 1, tech 2! Qual è il valore più grande della Valmarecchia? Lasciati il blu del mare alle spalle, immergiti tra boschi e verdi colline. E piccoli borghi, in cui potrai scoprire castelli medievali. Qui la natura ti abbraccia e... Insomma, Marco, che c'è ancora? L'ambra di Talamello. Il tartufo di Sant'Agata Feltria. Aceto balsamico di Modena. No, volevo dire... Aceto balsamico, no, miche! E dai! Lui ha fatto così, se ormai... Ci metterebbe una spruzzatina di aceto balsamico pure sopra le tagliatele funghi porcini. Lo perdoni. Vabbè, ma che c'entra il tartufo? Eventualmente si potrebbe fare un altro video dedicato a cucina e prodotti tipici, no? No, figliolo. Non perdiamo il filo dello storytelling. Coraggio. Ma dove lo metto? La parola chiave è sistema. Sistemiamolo. Un'altra volta. Qual è il più grande valore della Valmarecchia? Ti dimenticavo. La polenta di perdicare. Qual è il valore più grande della Valmarecchia? La leggenda di Azurrina. Qual è il valore più grande della Valmarecchia? I sassi di Petrella Guidi. Qual è il più grande valore della Valmarecchia? Il sistema. Sistema che? La casa di Tonino Guerra. Qual è il valore più grande della Valmarecchia? Il sistema. Qual è il valore più grande della Valmarecchia? Io ci metterei pure il Monte Picciolo. Bravo! E allora Piazza Ganganelli? Qual è il valore più grande della Valmarecchia? Il conte Cagliostro. Il teatro Mariano. Sistemiamo. Il Verruccese. Il Borgo di Senatelli. Il sistema. Basta! La Madonna di Saiyan. I luoghi dell'anima. Le grotte di Sant'Arcangelo. Le grotte di Sant'Arcangelo. L'angelo che va. Il sistema. Non me la ricordo. L'osservatorio di Poggio Torriano. L'osservatorio di Poggio Torriano. La piada di Maiolo. La piada di Maiolo. Ma com'è la piada di Maiolo? Ma com'è te vengono a mente certe cose? A Maiolo fanno il pane. C'è sta pura festa. E che a te della Valmarecchia ti mancano le basi? E mo' che io gira sto video?